raga eccoci dove ragazzi stiamo entrando in una villa oddio raga però è tutto chiuso qua è stato molto semplice entrare stavolta però c'è indolore però c'è indolore ma da quanti anni è che è qua questa qua questa villa qua secondo voi però qua c'è un buco raga raga qua c'è un buco ce la rischiamo e proviamo a vedere ok allora raga stiamo entrando da questo lato qua stiamo facendo abbiamo trovato il portale il portale stupenda pazzesca mmm interessante c'è una cariola anche un po' di gianiche e di acqua vabbè andiamo a vedere dentro ci sono i spiriti bella però raga è tutto crollato raga è tutto crollato raga sì sì un po' delusi da costare però andiamo dall'altra parte andiamo di là da dove siamo entrati che c'è tipo cosa c'è la finiscusa ok andiamo proviamo niente raga stiamo uscendo perché è praticamente tutto crollato seguitemi ragazzi per questo avvento c'è Nino vai Denise facci da guida Denise è la nostra cicerona cicerona è la villa praticamente completamente distrutta inagibile peccato perché da fuori è praticamente nuova ma dentro è tutta crollata quindi niente un po' una un po' una X questa esplorazione non tutta perdita ancora quindi Denise dove ci stai portando? adesso mi farò vedere lo scabuzzino di morire di morire non tutta nascosti non tutta nascosti stai sempre magari aveva delle passioni di tipo di un po' 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 aiuto raga mi sto piaciendo grosso però di qua questo è il giardino di Moira Orpoi è il giardino della villa direi che l'ha messo molto bene c'è pure una piscina qua c'è una piscina gonfiabile completamente bucata c'è una piscina? non lo so secondo me sì è una piscina per me invece sono quei teli sarò un telo del circo? questi li usavano per fare come si dice per esercitarsi per esercitarsi per il circo secondo me se stiamo attenti e guardiamo bene percorro possiamo trovare qualche orna di elefante questi pezzicoli taglio tutti guarda guardate raga abbiamo trovato forse questo è più sembra il più cammello dromedario perché vedete la tipica forma si può essere si si è vero è vero c'è un altro buco qui però vabbè a parte il pericolo di crollo non siamo entrati però c'è tipo una porta la sicurezza prima di tutto la sicurezza prima di tutto quindi non entriamo ovviamente però vogliamo solo sbriciare un attimo perché qui c'è tipo una porta con dei sotterranei secondo me noi giustamente andiamo a vedere andiamo a vedere solo la porta e basta magari esce l'orso adesso guardate oddio cazzo raga ecco dove teneva i suoi schiavi è qua secondo noi ci tenevano i suoi schiavi ma era orfeo sicuramente c'è pure la pozza vedi voi entri e visti no io si ma spazza ho capito ma se è pericolo di crollo sei pazza no non si può comunque sarebbe bellissima cioè ristrutturata secondo me sta sta cosa qua sarebbe strabella stupenda beh di là dove vuoi andare vecchia qua non c'è niente no ma no è tutto chiuso però che peccato che peccato però guardate le porte che belle che sono sono stupende di legno guarda il terrazzo di sopra wow c'è il terrazzo di Roma e Giulietta anche raga bellissimo adesso vediamo lo spirito leggenda narra che Moira Orfei aspettava il suo amato ogni sera e lei si metteva là e il suo amato veniva qua sotto e gli cantava la serenata e vediamo se secondo noi se veniamo di notte di sera veniamo anche lo spirito di Moira Orfei sì di solito dicono appunto che si vede vagare su questo balconcino in cerca del suo amato che purtroppo l'ha lasciata la confezione la confezione la confezione ma raga anche qua c'è tutto c'è tutto un edificio abbandonato raga figata ci siamo aspettati abbiamo trovato una cosa inaspettata raga anche qua c'è un buco raga andiamo a vedere di cosa si tratta non sappiamo bene di cosa si tratti però ma c'è un ma c'è una scarpa ma perché ci sono scarpa ma può essere che si entrare qui secondo me è tipo una stalla scureggiato avete sentito un dolore c'è anche un sacchetto un sacchetto di immondizia allora ragazzi non sappiamo se si era a casa di qualcuno questo bus perché c'è la roba dentro vuoi entrare Denise a fare il cucù porco aiuta raga no qua è proprio spezzatura ci guardo ci sono delle pastiglie dove? no delle pastiglie oddio raga aiuta andiamo di qua c'è un altro buco andiamo a vedere oddio raga c'è un altro scarpa ci sono anche delle scale ma questa è una stalla raga secondo me qua teneva tipo i cosi gli animali c'è anche una corda eh sì è una stalla questa raga bellissima sì stiamo proseguendo raga e andiamo a vedere dall'altra parte che cosa c'è sì c'è anche cosa di di valsoia di là secondo voi raga ah c'è un altro buco raga andiamo di là c'è un altro buco dove? c'è un camper raga ma cosa c'è questo edificio raga? è una roulotte c'è un camper 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 c'è un camper